Mi trovo benissimo, sono stato accolto subito molto bene dai compagni, ma soprattutto dal mister, che è stato il punto forte del mio trasferimento, che mi ha voluto fortemente, ho piacere di lavorare con lui, mi conosceva già dai tempi del Padova e sono molto contento di essere qui. Sensazioni sono positive, c'è stata quella brutta prestazione a Imola, ma può succedere, voglio dire, su un cammino così ci sono i punti alti e i punti bassi, l'importante è che a Siena abbiamo risposto bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti, però poi i tre punti sono arrivati in casa, con la Lucchese, davanti ai nostri tifosi, quello è l'importante, abbiamo svoltato il periodo, adesso bisogna continuare su questa strada. Io comunque ho fatto due partite col Pisa e non ho giocato tanto questi primi sei mesi e sono molto contento che mi abbia fatto giocare dall'inizio, penso di aver fatto comunque una buona prestazione, sto anch'io salendo fisicamente, non sono ancora al top, però ci arriverò presto e quello è l'importante. Beh, fa piacere, non vedo l'ora di giocarci contro e c'ho un bel ricordo, anche se comunque non sono stati sei mesi dove ho giocato tutte le partite eccetera, però mi sono trovato molto bene su quella piazza e con i compagni e c'ho un buon ricordo. Questi sei mesi per me sono i più importanti della mia carriera per adesso perché ho 23 anni e devo dimostrare che posso giocare in categorie superiori. Perché ho assaggiato la B, un po' al Padova, un po' al Pescara, un po' al Pisa, però non ho mai avuto l'opportunità di dimostrare veramente e quindi sono qua per rilanciarmi e per fare bene.